Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamo come fare questi savoiardi, questi meravigliosi savoiardi fatti in casa. Ho visto varie ricette però presso a poco, grammo più, grammo meno, si assomigliano un po' tutte. Poi alla fine ho preso questa di un pasticcere famoso dove il segreto sta nel far incamerare aria al composto, a tutti e due i composti. Adesso vedrete come. Io sto eseguendo mezza ricetta rispetto alle dosi. Ho messo i tuorli e la prima parte di zucchero, la parte più grande. Alcuni mettono anche lo zucchero tutti insieme però io ho fatto questa ricetta, ho visto che è venuta molto bene e quindi procedo così. Ora sbatto a lungo, se volete potete usare la planetaria, qui ho fatto dei tagli naturalmente se no si allunga troppo il video. Sbatto fino a che non rimane bello denso, ancora non è ora, avete visto perché scende troppo velocemente quindi continuo a sbattere un pochino. Il pasticcere che vi ho detto si chiama Sacchetti, Paolo Sacchetti, spiega molto bene come fare questi passaggi. Ok, ora procedo a montare gli albumi, anche questi a neve ferma e poi man mano ci metterò l'altra parte di zucchero minore, come per fare una meringa. Ok, vi dicevo prima che presto a poco le ricette si assomigliano un po' tutte, grammo più, grammo meno, qui addirittura si pesano gli albumi con i tuorli. Vedete adesso inizio, quando sto a questo punto inizio a mettere lo zucchero rimasto, piano piano, ne metto un po' per volta. Sì, altri invece mettono le uova senza starli appesare, ma l'importante è dividere tuorli e albumi e montare molto bene i composti. Poi vedremo anche il seguito, qui continuo a montare, deve venire proprio bello duro, deve rimanere attaccato alle fruste, il composto, scusate. Sono abituata a parlare di pane, quindi impasto. Allora, continuo. Ci siamo quasi, lo zucchero se non vi piacciono troppo dolci potete anche diminuire un pochino la dose. Ecco qua, e questo è la consistenza giusta. Bene, ora mi setaccio le farine, la farina più la fegola, la setaccio ma poi ancora la rimetto dentro il sedino perché poi la verserò sull'impasto passandola di nuovo così incamera anche questa tanta aria. Adesso vado a mescolare l'albume montato con i tuorli e farò in questo modo, potete fare anche io con un cucchiaio. Io adesso ho preso questa frustina e faccio piano piano così dal basso verso l'alto. Senza smontare l'impasto deve rimanere bello gonfio, più rimane gonfio più i savoiardi vengono pieni di aria e quindi altini e leggeri. Quando ho messo metà albume comincio anche a mettere la farina in questo modo, ne metto poca per volta in modo che è leggera e continuo a girare. Bene, bene, metto ancora il resto degli albumi. E quindi, come dicevo prima, il segreto sta tutto qua. Con pazienza, mescoliamo sempre dall'alto in basso, ancora la farina. E abbiamo terminato. Ho acceso il forno nel frattempo, è a 170 gradi. Ho dimenticato di mettere prima, questo è meglio metterla prima, un po' di vanillina, di aroma di vaniglia, oppure potete mettere un po' di rum, mezza fialetta. Mettetela prima perché qui rischiamo magari che si smonta l'impasto. Bene. Adesso io mi sono preparata questa carta forno, la vedete scura perché è una carta biologica, naturale e compostabile. Preparo una sacca. Io userò solo la sacca perché non ho ritrovato il beccuccio, non so dove l'ho messo, però se avete il beccuccio da pasticcere mettetelo. E vado a mettere il composto, ne metto un po' per volta, non tutto insieme perché magari con il calore delle mani rischio di smontarlo. E poi vado a fare dei bastoncini, presso a poco tutti della stessa lunghezza. Il forno intanto a temperatura. E poi sopra ci metto questa miscela di zucchero a velo e di fecola. Oppure qualcuno ha visto che mette zucchero a velo e zucchero semolato. Questo serve a tenere fermi un pochino i savoiardi in modo che in cottura poi si alzano, si gonfiano. Naturalmente in commercio trovate anche gli stampi proprio per savoiardi, anzi devo vedere. Ed eccoli qua, dopo dieci minuti, ma nemmeno ci vogliono perché come li vedete coloriscono, li dovete togliere, devono rimanere chiari. Vediamo, bellissimi, sono morbidi, veramente belli. Guardate, sì, un pochettino più alti forse era meglio. Guardate che belli, buoni, sono veramente buoni, l'ho già assaggiati e buonissimi. Bene amici, mi fermo qua, come avete visto non è molto complicato, basta tenersi a quelle attenzioni che ci vuole per far venire il composto bello gonfio. Ho preparato già le coppette di tiramisù per i miei nipotini. Ma anche per me, naturalmente. Bene, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!